Ehi la giur, ma di essermi a tutti e ben ritrovati qui su Expeditions Roam. Allora, entriamo nella barca di il nostro nuovo caro amico. Ti spiego, andiamo. E vediamo di bloccare questo. Comunque ho controllato il morale di Sineroth ed è comunque unwavering, per cui non ce l'abbiamo troppo inimicato. Secondo me è che si sacrificano uno per molti e molti per uno. Allora, vediamo qua. Buongiorno. Siamo ancora qui. Ci servizi ancora non sono riusciti. Corwinus ci ha detto la verità. E' stata assolutamente convinta che stavamo in una scuola. Anch'io. Noi non ci sono riusciti ancora. E' sembra abbastanza spiegato. Se siamo attenti, potremmo poterlo diventare in dettaglio. E' sembra abbastanza spiegato. Ho lasciato le opportunità per fare giustizia per occuparmi di questo. Facciamo attenzione che non sia in vano. Siamo trovati un modo per tornare la tua villa. Per ora. Focasi sulla guerra. Ogni soldi che ci matiamo, sembra un po' di vindicazione. Ci sono delle guardie là. Ce ne sono altre là. E poi non si sa. Vado a dire che mentre quello se ne va, noi ci occupiamo di questi. Qui. E come non detto. Allora. Ok. Andiamo con bestia. Allora. Avrei dovuto usare l'altro per cogliere lo scudo. Ah, però gli ha tolto due di armatura. Ottimo. Ah, Iulia? Dai! Infatti va, 11 su 21. Non lo tireremo mai giù con questo. Non lo tireremo giù con nessun altro, comunque, per cui. No, era dei aneira. Potevo farle fare l'attacco incredibile della morte. No, era dei aneira. Potevo farle fare l'attacco incredibile della morte. Un logistic. Un logistic. Che avrei dovuto far prima. Vai qua. Un overpower. Ok. Ok. Qualun logistic. Qua lui non posso fare molto se non tenerlo qua in difesa. e si non arriva da qualcun parte si non arriva da nessuna parte aspettiamo qua che almeno abbia la copertura che gli unspent point ah lui si sparo è pieno di assassini eh si repentiranno tutti assolutamente no questo è quello che lancia le bombe ahia no sti cavolo di spike del manga allora eeeh dove è andato l'altro tizio che era qua si è lontanato nel nulla mi sa allora non mi ha tolto lo scudo però pupata ah se vado su quello mi coglie e l'altro attacco è andato sprecato dai questo è Sineros eh lo so grande è così allora allora lui è qua pronto al difesa ma mi sa che conviene quasi andare ah qui c'è lui che è nei guai che facciamo però se vado in là me li trovo tutti addosso ah fa protect solo per il suo intorno non è buono don't race ok e eeeh i piamo dire posso usare i ah lì hai i calciops riesce a mandare i calciops qua giù si così però ne deve passare almeno due dai vai così calciops per calciops non vorrei spercare altri pila perché potrebbero tornarmi utili ahia Pineros però sta sanguinando guarda qua sono andate super bene con le trappole oh sentite che sanguiniamo e non è una bella cosa però allora lei benissimo molto bene quello saluta presto eeeh farei due surprises se possibile yes il bleeding ce l'ha già il 100 i flanked ma non abbiamo nessuno di flanked ah no c'era un click al troppo se porca miseria ah eccolo l'altro dove era eeeh questa è una si non ci si dà niente lui facciamo così e poi ci arrivi là sotto si ci arriva molto buona allora lui è qua e dovrebbe toccare senza problemi quello là sotto e poi andare qua su questo mentre invece si nello se gli farei togliere il bleeding a qualcuno e se lo può eeeh curare vai su Deia Neira va in realtà sono tutti che stanno sanguinando eh Deia Neira lei ha cosa Giulia Calida no forse su ben seta ma ha più senso questa ridà vita eeeh questo cura gli togli anche il bleeding si allora facciamo con questo e posso ancora quindi posso togliere il bleeding da me stesso si si è autocurato meglio così eeeh eeeh andiamo un danno due danno aiaaa ma questi sono un danno eeeh ancora con sti calthrops tanguina fortissimo calida eeeh lui è fuori dai giochi aspetta calida facciamo tra un attimo quindi dobbiamo tirare giù questo non è andato giù pupatta facciamo questo ok tu vai qua così si toglie dai piedi a quello comunque non lo vede per cui facciamo un aimer non aveva il tiro di opportunità no sembrino vai così eeeh vai così dai a neira buonissimo ok abbiamo dato un calthrops ma non è un problema perché li abbiamo tirati giù senza troppi guai allora ma è solo il primo pezzo di loro mi sa eh comunque secondo me ce ne sono ancora tanti 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 altri però finché non abbiamo guai va tutto bene stanno usando un sacco di calthrops spero che mi rendano un po' difficile la vita oh da che parte andare questo è un ponte che non mi piace salirei prima di qua questo ha il sangue di un ultimo stand non mi piace pensi che questo sia per scegliere una sceglia? cosa altro? queste prodotti saranno i cacoli sull'acqua in questo modo mi credo che questo si può sicuramente ritratare se i romani prendono il cazzo proverei a prenderli di qua se possibile così da seccare l'arciere allora preparation phase allora metterei eh la metterei qua dei aneira va? così c'è esatto la sua carica fortissima pronta metterei no Sineros qua ci sta bene lui lo metterei qua che si occupa di quell'altro vada così allora Sineros vai di logistics pallo sanguinare bravissimo le ho tolto anche la armatura benissimo e su questo buono bestia cosi così si vuoi dire come siamo so weak sanguinerà fino alla fine questo tis eeeh no fai qua e poi su però non posso permettermi che l'arciere faccia cavolate assineros salgito lo metterei qua dietro lo stia safe julia calida allora quello non è troppo un problema però allora d'acqua lo vedo 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 anche l'altro potrei effettivamente sfruttare questo per fare un paio di tiri sull'altro vai ottimo e facciamo questo lui allora molto bene è rimasto solo tizio là sopra ah ce ne sono altri che arrivano ok perché arrivano da su ma no problem allora ok allora lo facciamo tankare in quella direzione bene io la mettiamo qua queste le mettiamo qua queste le mettiamo qua finora se le mettiamo appena dietro più le facciamo salire allora facciamo uno nooo miss 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 mia cara miss allora questo ha un steadi ehm vabbè restiamo così brace va bene ahia da dove viene quello ma dovrà mostrarsi è una certa sono molto sciocchi comunque perché mi hanno lasciato margine no lei non è c'è lui non è però mi hanno lasciato comunque margine per dei nero per agire tieni in in your pace stupido 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 ehm ma che nozzi devi tirare la testata non è che vabbè ma scusa a dire ehm senti allora curiamo tutta la pain guardami e ehm molti di 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 Buono, significa che sei bene Chi è ancora delle mosse? Ah, lui, ma... Vabbè, allora, là può arrivare Un tiro di questo Non arriva là Ecco però chi c'era qui, nascosto, sciocchino Vai Ottimo Spear charge non lo può fare Però lo facciamo che si, nel rosso lo muovo qua Facciamo tirare una bella bastonata a questo Nooo Nooo, ha resistito Provo di poter fare il giro lungo e invece niente Vado così Ah, però c'è ancora Yulia che può fare della roba Magari non il doppio Ma vede solo lui? Scusami, ma... E vede sempre solo lui Ma come fa a veder solo lui? Vabbè, niente, deve anche quello scudato Per lui non serve a nulla Allora, lui non può fare nulla L'ha sanguinato un po' troppo, poverino Anche lui comunque non l'ha messo bene Scusami, andiamo... Scusami 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 Allora Scusami 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 Eh, però Questo non lo butto giù Invece ha lo tutto lo scudo Scusami Scusami ah, lui non l'ha al mattone, avrei potuto magari spostare lui lei non lo vede, no? neanche spostandosi, no, non lo vede mai è invisibile questo uomo ah, sì? ci è? mi sembra onesto? molto bene detto questo mi sa che continuiamo questo smug l'earth cave nel prossimo video perché si è già fatto abbastanza tardi e vi invito come al solito lasciate un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi per cosa non lo stai già fatto, ciao a tutti e buona giornata!